Sto facendo il sottovento per vedere perchè non c'è terra su tutto, c'è la macchina, ho fatto vedere dov'è. Se lo vedete, sulle ruote c'è un t-mark in coloro orange. Sì. Siamo dovuti riuscire al t-mark e riuscire tra le due auto. Ok. Toccare solo dopo la t-arancione e il percorso valido è quello fra le due macchine. 730, non dovete riuscire al t-mark. Se non ce la fate, rifate il giro. 730, il taxiway è sulle lezioni. 830, non dovete riuscire al t-arancione e la macchina a destra. 830, non dovete riuscire al t-arancione. 830, non dovete riuscire al t-arancione. 830, non dovete riuscire al t-arancione. Sibiu turn? Stare si stare! Aeronovele au aterizzata cu toata insiguranta, va multumim la reauzire! Sarvatore, per gira, domani! Scarami! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti